Domani era la serata finale di questa nostra rassegna dialettale, siamo alla nona rassegna dialettale all'Arena BCC, però abbiamo avuto un inconveniente con la compagnia teatrale Accademia che è di peso, tra l'altro il presidente e anche presidente della FITA e abbiamo dovuto sostituire in ultima battuta proprio oggi abbiamo questa notizia di una indisponibilità della compagnia con i teatri solubili, sarà una serata romana verso i tradizionali romani, perciò la chiusura della rassegna teatrale poi abbiamo dovuto allungare di una settimana perché a San Gostanzo dopo l'esploit del 16 agosto, siccome tanta gente è rimasta fuori per capienza ridotta, la ripeteremo sabato 5 settembre, perciò la serata finale non sarà più il 28 agosto ma sarà il 5 settembre con il San Gostanzo e il codice della cecca, perciò abbiamo dovuto allungare una serata a causa la serata del 16 agosto che la capienza ridotta non ha permesso tutti di poter assistere alla serata.